buongiorno buon pomeriggio buon con questa aria natalizia coi felicotteri rosa tutti sbrillucicosi il pelusciosi il mio babbo natale arrampicatore siamo qua per aprire l'ultimo stavolta prometto che l'ultimo calendario dell'avvento avevo detto che era l'ultimo l'ultima volta però avete fatto una richiesta in privato più di una e anche sotto i video mi avete chiesto di aprire il calendario dell'avvento della lipton a isti quello del tè potevo non accontentarvi ma no dai non potevo non accontentarvi l'ho fatto volentieri anche perché il tè io non lo bevo però lo posso anche bere mio figlio invece lo beve quasi tutti i giorni e perciò detto va bello prendo che così mi invogli anche a bere il tè se c'è qualche bustina che mi piace allora io l'ho preso in offerta su amazon che adesso non è più un'offerta perché il brin fra i dream blen frindri bla block friday bling friday blu friday insomma le offerte di amazon quelle che duravano pochi giorni sono finite io l'avevo messo nel carrello prima del blen friday prima e dopo ho guardato perché ho detto magari col brin quello lì mi va in offerta e mi calla il prezzo di fatti è stato così e perciò io l'ho preso in offerta l'ho pagato 9 euro e 90 adesso non mi ricordo se sta 14 90 12 90 o non mi ricordo cosa sta comunque sta ecco e questo è il calendario dell'avvento del tè sarà veramente l'ultimo questo non mi chiedete più di prendere anche perché ormai siamo a dicembre e avete già cominciato al primo ad aprire le caselline perciò non vale neanche più la pena aprire calendari dell'avvento ne ho aperti tanti e questo è l'ultimo che si apre così è molto bello per 9 euro e 90 e niente andiamo andiamo con l'apertura come sempre alla cazzo de cane perché inutile che parto con l'uno due tre dopo vado a cazzo de cane partiamo già a cazzo de cane che facciamo prima allora partiamo col cinque col cinque giriamo così col cinque e vediamo che te troviamo troviamo due bustine di allora green tea citrus de ver agrum allora credo sia un tè agli agrumi sì credo sia proprio un tè agli agrumi un tè al limone beh buono beh non si sente niente così io credo sia proprio credo sia proprio buono questo sì il tè al limone praticamente questo ho trovato dentro due bustine di tè al limone buono questo mi piace magari potrei fare che a ogni video che faccio sorseggio un tè come come quelli inglesi che che il tele 5 io potrei fare che a ogni video mi preparo una tazza di tè e proviamo uno alla volta tutti tre che troverò dentro qua vi va se faccio così così mi invogli anche a bere tè perché io non è che vada proprio matta è però non è che mi dispiace neanche però facciamo così che a ogni video che faccio magari mi faccio un bel tè caldo e sorseggio un tè insieme a voi ecco allora andiamo con la numero 17 17 troviamo dentro altre perché ci sono due bustine per ogni cosa lì che ecco momento balance green tea vert green tea vert credo sia tè verde ecco il tè verde non mi piace questi qua ho trovato dentro due tè verdi ecco il tè verde proprio so già che non lo provo nemmeno perché l'ho già provato questo qua e non mi piace andiamo già con il numero 24 che è il giorno di natale no la vigilia e troviamo dentro ecco neanche questo non mi piace perché il green tea orient de vert orient e c'è dentro la cannella si sente anche un chiuso e a me la cannella non piace proprio non mi piace eccola qua vedete che c'è la cosa della cannella ecco non mi piace già lo so perciò sarà un tè che non provo insieme al tè verde poi proviamo col numero 10 il numero 10 troviamo energize momento energize english breakfast english breakfast questo dovrebbe essere quello che mi al vedere sì quello rosso qua dovrebbe essere quello che mi piace credo che sia il primo che il primo che proverò a bere questo questo qua ok andiamo col numero 5 no 5 l'ho già perché qua c'è una bustina di camomilla non so che cazzo ci fa qua cioè è scivolata giù l'ho vista scivolare giù momento reale non lo so non ciò che c'entra comunque magari è scivolata giù da un'altra casella perché c'è una bustina di camomilla vabbè dopo vediamo mano a mano che apriamo vediamo cosa capita il numero 12 troviamo troviamo il lapo che abbia ecco un'altra come quelli di prima che quella la cannella che non mi piace comunque lo lasciamo lì andiamo col numero 7 il numero 7 questi credo che mi mi piacciono sì al mirtillo buono black current classic a moment to refresh comunque credo sia il mirtillo buono anche questo direi che è buonissimo mirtillo mi piace ci piace il numero 4 il numero 4 a dentro questo qua che è non lo so al p roibos momento relax non lo so che tec roibos perché anche dietro ma in italiano non c'è che te preparazione per il confuso boh non lo so cosa ditemi voi sta pianta qua sembra una pianta di pino no no che c'è anche il riflesso della l'albo non lo so io sto ancora a vedere cos'è sta qua la camomilla numero 15 numero 15 numero 15 e troviamo amore rose rose hip e in glatier vabbè queste qua anche queste non so che te possa essere fighiamoci andiamo col numero 6 e col numero 23 altrimenti ci metti ah ecco la camomilla dove era scivolata perché ce n'è una sola nel numero 23 era scivolata di sotto c'è la camomilla beh questa io la bevo tutte le sere perciò questa a me va molto bene due bustine due bustine di camomilla e nel numero 6 invece troviamo aia la festa da mammata che male mi sono si è piegata un'unghia perfino aia che male troviamo una e una due di russian e russian e rgri vabbè queste due non so che te sia comunque sono tutti te nuovi io non li ho mai provati poi ne apriamo altre due anzi apriamo tre di già che così finiamo sta parte di calendario allora nella numero 11 troviamo dentro altre due bustine di camomilla nella numero 3 troviamo dentro due bustine di verbena verbena verie verveine la verbena l'ho sentita ancora ma non so che cosa sia comunque due bustine di verbena verbena l'ho sentito ancora però non lo so nel numero 9 invece troviamo dentro due bustine di uh buono questo tè alla vaniglia buonissimo due tè alla vaniglia buonissimo questo però c'è un è bellissimo sto calendario perché cioè puoi provare praticamente tutti i gusti di tisane cioè praticamente fino adesso ne ho trovate quasi una diversa dall'altra bellissimo sto calendario grazie che me l'avete consigliato perché magari no provandole tutte ne trovo uno che veramente mi piace poi lo prendo e sta parte qua l'abbiamo aperta tutta andiamo all'altra parte e apriamo la numero 8 la numero 2 e la numero 18 ok allora la numero 8 troviamo due bustine di di ah il tè verde vabbè non mi piace i due bustini di tè verde che l'abbiamo già trovato alla numero 2 troviamo due bustine di anche questo abbiamo già trovato il rose rose i peng latir queste qua e alla numero 18 troviamo due bustine buono di quello ai mirtilli due mirtilli ma apriamo la 19 la 21 e la 16 allora nella 21 troviamo due bustine di peppermint ment poivre tè alla menta peppermint penso che peppermint menti poivere poivere vabbè queste due che alla menta credo siano mai viste poi qua nella numero 16 troviamo roibos due roibos che non sono tipo le scarpe da ginnastica raiban ma è un tipo di tè roibos non so che tè sia ditemelo voi poi la numero 19 è verbena anche questo verbena l'abbiamo già trovato e non so che tè sia il verbena proviamo la 14 la 1 e la 13 allora nella 1 c'è dentro peppermint quello di prima 2 di peppermint fa tutto riflesso ecco peppermint nella numero 13 troviamo russian englity che anche questo l'avevamo già trovato 2 e nella numero 14 troviamo quello che penso che mi piacerà molto il primo che abbiamo tirato fuori che è quello agli agrumi questa sarà la prima che ho detto che assaggerò quella agli agrumi perché l'ho già assaggiata non di questa marca però so che è buona poi andiamo ad aprire le ultime due che sono la 22 e la 20 allora nella 20 troviamo english breakfast che anche questa penso che mi piaccia queste due e l'ultima che abbiamo è la numero 22 buone che l'abbiamo già trovata che è quello alla vaniglia 2 alla vaniglia e penso che qua abbiamo aperto se non sbaglio tutto sì sì abbiamo aperto tutto ok che vi devo dire ragazzi io ho 48 bustine in tutto che vi devo dire io sono super soddisfatta vi dirò grazie a chi me l'ha consigliato perché ci sono dentro tantissime qualità che io non ho mai assaggiato non ho mai visto perché io appunto vi dico non sono amante del tè l'ultimo l'unico tè che mi piace lei è quello rosso con la scatola rossa quello normale ecco quello mi piace molto ogni tanto me lo prendo è mio figlio che l'ultimo che gli piacciono i tè si è comprato l'altro giorno la tisana quella alla tè nero tè nero e tè nero e vaniglia si è preso la tisana tè nero e vaniglia e non l'ho neanche assaggiata io lui lo vedo dopo c'ha di lass preso quello al lampone lampone e non mi ricordo e cocco lampone e cocco ecco a lui piace adesso alla mattina invece di bere il caffè si fa il tè va a periodi ecco comunque io sono contenta perché almeno vi ho promesso ogni video vabbè noi mukbang perché non è che mukbang mi metto a bere tè come i tedeschi no magari a ogni video quando faccio una volta a settimana che parlo della famiglia più famosa del web o magari quando faccio altri tipi di video intanto che faccio il video mi sorseggio un tè ogni volta diverso dall'altro che così li assaggio tutti e vi dico anche come sono e niente spero che questo che l'ultimo calendario che ho aperto vi sia piaciuto mi avevate chiesto tanti calendari vi dico la verità della look fantastic della pupa mi avete chiesto tanti calendari di aprire però guardate io vi dico la sincera verità allora io come vedete sono una persona più acqua e sapone che altro non è che mi trucco tanto mi trucco poco ok quasi niente e anche quelli che mi avete chiesto della Yves Rocher mi avete chiesto quello dell'Avon quello di Amazon cioè mi avete chiesto tanti calendari però stavano tutti 50 60 euro e sinceramente vi dico la verità andare a spendere tutti quei soldi per calendari che poi ci sono dentro tutte cose che io non uso cioè come buttare via i soldi ed è un peccato perché cioè per me per una che si trucca e che usa tante creme ok ma per me che non mi trucco e creme uso proprio l'indispensabile ho qua ancora le creme dell'anno scorso della Nivea capito è come buttare via i soldi ed è un peccato perciò ho preferito aprire questi calendari qua tipo del tè i cioccolatini c'è calendari così che almeno so che dai si mangiano si bevono e tutto quanto e anche costano poco perché ho optato più per prendere più calendari però che costassero 10 euro 8 euro 12 euro e non andare a spendere 70 euro per un calendario vi dico la verità buttare via i soldi non è che che mi piaccia tanto ecco niente detto questo io vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto vi mando un bacio alla prossima